Buongiorno, sono Giannette Alessandro, sindaco di Monte Rotondo Marittimo, un comune che si caratterizza per avere gli impianti geotermici sul suo territorio, ha 5 impianti geotermici, complessivamente 100 MW, che servono a coprire l'85% di energia prodotta necessaria per la provincia di Grosseto. La nostra attenzione è particolarmente mirata all'ambiente e lo dimostriamo attraverso tutte le nostre azioni. Infatti noi abbiamo messo sul nostro centro sociosanitario un tetto fotovoltaico, abbiamo intenzione di mettere sul nostro palazzetto dello sport un ulteriore tetto fotovoltaico, comeppure abbiamo realizzato agli impianti portivi un tetto fotovoltaico con relativa produzione di valore. Questo per andare a minimizzare e a rendere possibile che a livello energetico ogni struttura sia autosufficiente.